Buongiorno, ciao, tu sei arrabbiata perché non ho le uova e non posso farti le crepe e puoi mangiare qualsiasi altra cosa nella dispensa potremmo sfamare tutta Novara Oggi sapete cosa dobbiamo fare? A parte tutti i compiti perché domani, dove siamo domani Vanessa? A Biella A fare cosa? Andare alla casa di Babbo Natale Domani andiamo alla casa di Babbo Natale e chi incontriamo domani? Babbo Natale Babbo Natale! Babbo Natale, anche gli elfi, sì Tu devi venire con queste calcine, saresti perfetta Le ho dire una cosa, sapete che domani noi facciamo un bigliettino per Babbo Natale e le diamo, lui ci dà un regalino Esatto E poi possiamo aiutare gli elfi Esattissimo Però, secondo me oggi noi dovremmo fare un'altra cosa Che cosa, Vane, secondo te? Ah, l'ho scoperto! Questo, questo... Brava! Bravissima! Dobbiamo scrivere la letterina di Natale! Perché io non avevo capito il video E quando però ho... Tu hai detto cosa dovevo fare? I venerdì ho detto Ma domani facciamo il video con questi? Esatto E vero mi sono scordata E ora l'ho capito subito Bravissima! Perché non volevo già fare venerdì Ma tu hai detto no dai facciamo un sabato Esatto e oggi è sabato Siamo liberi in domenica no? Eh, però... Però ascoltami Dobbiamo fare i compiti prima È importantissimo Facciamo questo? No, no amore facciamo prima i compiti No, prima o questo Oh, sei sicura? Ani Guarda che... Ascolta... Ah, sai cosa possiamo fare? Ascolta la mamma e non dire di no Iniziamo a fare i compiti Poi facciamo una pausa dai compiti Perché ti stanchi E facciamo la letterina No E poi rifiniamo i compiti Sì Ani Dai Tua sorella deve ancora far colazione Facciamo i compiti prima No Cosa no? Tu gli suggerisci la risposta Eh, vai Facciamo i compiti prima Eh? Tu ti devi ancora svegliare Facciamo i compiti Ti ho vista Dai amore Facciamo un pochino di compiti No Poi ti rilassi Facciamo la letterina No Oh mamma mia Facciamo un compito e basta Brava Facciamo questo Brava, dai Dai amore Dai facciamo un compitino Prendi lo zaino Come mai questa Intelligenza stamattina E la carenza di crepe Che ti ha fatto diventare un pochino più intelligente Come mai hai deciso di fare i compiti Come guardare così Hai gli occhi gonfi stamattina Vanessa Sei stancata ieri molto? Stai bene? Domani dobbiamo andare alla casa di Babbo Natale Che cosa? Sì Ascoltami Non è che devi comprare tutto Perché Babbo Natale non può portarti tutto Perché nel mondo non ci sei solo tu Capito? Quindi devi scegliere qualche cosina E poi fai vedere cosa c'è in fondo alla pagina Amore sei tutta in fibrillazione Fai vedere cosa c'è in fondo alla pagina Cosa c'è in fondo alla pagina? Ma vai alla fine no? C'è bisogno che li sfogli tutti Eh vedete bimbi che in fondo alla pagina c'è scritto Io lo so Allora Babbo Natale ti voglio tanto di E basta Tutto qua? E poi sceglie lui cosa portarti? Ah va bene Per me è una buona idea Ok allora dai Adesso diamo Cosa? Così? Ma sono per bimbi piccolissimi questi amore No basta cucine eh Che ne abbiamo due Babbo Natale lo sa che ne hai due Le porta ai bimbi che non ne ha Ok? No io prendo quantità Ok Allora comincia a fare le orecchiette sui fogli Sai come si fa l'orecchio? Si piega la paginetta in alto L'angolino Così sai che lì c'è qualcosa che ti piace Poi prendi una penna magari E segniamo quale ok? Dimmi Vane Cioè cos'è il tuo nastro? Eh il tostapane per bambini Qualcosa del genere Lei chi? Lo vuoi tu? Tu usi il tostapane vero Voglio prendere una nuova cassa Ma se l'hai appena comprata Un attimo adesso sto C'è questo perché questo c'è il dottore Si amore ma Sei sicura che vuoi queste cose Poi cosa ci fai? C'è lì qualcosa di più Eh? Oh si Aspirapolvere della Folletto Ma sai che costa come quella della Folletto Babbo Natale Non so se ha tutti questi soldini Costa come l'aspirapolvere vera eh Dai tu segni amore Tanto lo sai Devi segnare Ma poi Babbo Natale ti porta qualcosa Mica ti porta tutto eh Non so I Folletti? I regali? Può darsi che qualcuno lo fanno loro Poi magari domani glielo chiediamo eh Quando andiamo ok? Perché ridi? Hai mal di testa? Hai un bacino sulla testa? Ma come hai fatto questo coniglio? In che sedia? È strano È strano col coniglio? Porta che bella Ah bella Questa mi piace la sediolina E poi ti siedi? Perché si Sì è vero Perché magari tipo Io voglio Quando tipo faccio colazione Alcune volte io mi siedo qua Anche per pranzo E allora con la sedia Ah hai ragione Hai ragione Hai ragione Ok La sediolina La poltroncina Vedi questo qua? Credo che porta Ah guarda Vuoi anche tu amore? Non è bella Rosa rosa Questo questo Vuol dire ce ne sono due Tipo No quello è un cavallo ad ondolo amore Eh E mica ti puoi sedere sopra per mangiare No lo so Dico però Tipo Questo per Vanessa E questo per me No Vanessa non lo vuole Vanessa è grande amore Comunque Insomma Facciamo che Abbiamo deciso di fare la letterina Babbo Natale Allora Dai in piedi anche Ci sediamo sul tavolo Con una penna Sì Sapete che voi non lo sapete Ma qua c'è anche una telecamera Che fa le foto Tipo quella La chiamamessa Ah sì Ma ce l'hai anche tu Ma ce l'hai anche tu Ma vabbè cosa Ce l'abbiamo Abbiamo un sacco di Rullini Non la usiamo mai Anzi Se domani ve la portate dietro La usiamo per fare le foto Babbo Natale Non è qua Sì che sono qua Mica sono Sant'Eodoro Allora aspettiamo Vanessa finisci di fare colazione E anche tu Fai la letterina Vero amore Che ce l'hai anche tu Ok Guardate come se c'è L'ora parigione Al passo Sì eh Ragazza Quello è il laboratorio Di Babbo Natale Se non ha fatto Che regali Eh sta cadendo Ora Vanessina ha finito Di fare colazione E anche lei È pronta Per fare la sua letterina Vi dico solo una cosa Massimo Dieci regali A testa Poi Babbo Natale Sceglierà Tra questi dieci Sì era stata Quanti regali Sceglierà Non lo so Questo lo decideranno No però Non C'è tre Eh chi lo sa Comunque ricorda No No Non è così Ma no 15 Vanessa Sai che ci sono bambini Che non ricevono Neanche un regalo Tu hai detto Che a Natale Ho ricevuto Un sacco di regali Perché a Natale Non è il compleanno Ma visto che Ne avete ricevuti Già abbastanza Per il compleanno Secondo me È proprio Natale di mezza Perché ha visto Ha visto Quanti regali Avete ricevuto Cosa fai Tu con la faccia Mi raccomando Tu ne hai già segnati Qualcuno Vero No Ah no Hai fatto le orecchiette Eh le stai segnando Ok il tostapane Perfetto Poi Vai avanti Io guarderei un po' tutto Prima di cominciare A depennare Tutta una pagina Ecco Vanessa Il trenino Di Tommy Quello va bene Che cos'è Questo E chi è questo Il gattino Il cagnonino Che tu Gattino Quello che parla Che mi angola Davvero Che interattivo Non so Non so neanche Di cosa Stai segnando Sì Il treno Che puoi Portare a passeggio E poi lo porti a passeggio Ma portiamo il nostro gatto A passeggio Abbiamo anche il guinzaglio Invece di portare il gioco Ce l'abbiamo vero Il gatto noi Tu Io questo Quale Ma hai questa fissa Per le casse Tu farai la cassiera Da grande Incasterai tanti soldi Spero Del tuo negozio Però Cosa I trudi Quanto costo Eh ho capito L'hai appena ricevuto Io questo Ma tu segni amore Poi vabbè la tale Sceglie Mega Ma no Ma veramente No va bene Quello che Mega Settizze Sì Fai l'orecchio Fai l'orecchio dove scegli Così poi Tu Hai certo La maggior cosa Questo no Eh Ma questo Che cos'è Il set di accessori Pasticceria Fantastico Un gioco che va Da quale anno Quale anno Dai tre Ai quattro No io io Questo 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 La rainbow Quella che cambia colore dei capelli Sì Questa Fai l'orecchio Perché se la poi non li trovi Fai l'orecchio alla pagina Un pupazzone Da coccolatti Così per un letto Siete in quindici Ok io stop Un aprivo il video E Sì E ci vediamo dopo Quando avete scelto tutti I regalini Così li guardiamo insieme Ok E li scriviamo Ecco che siamo arrivati In un punto cruciale Per Vanessa Che siamo entrati Nel mondo Barbie Perché la mia Vanessina Amore mio Desidera tanto La casa delle Barbie Noi non gliela prendiamo mai Perché Non sappiamo dove metterla Ma magari Babbo Natale È più buono di noi Quest'anno Ma quanto sono lunghi Sti capelli C'è Ecco vedi Che cosa c'è Ah sì Ma non prenderla Nostalgia Che le nostre fotocamere Sono lì dentro Guarda che se li fai crescere Ancora un po' Puoi rappresentare Rapolina E che bella Faccio male Non hai scelto La casa di Barbie E fammi vedere Quale Questa Questa è piccola Questa è piccola Quale quindi E questa è la più grande Che c'è Si sta prendendo anche le Barbie E la più grande che c'è Che ve li fa Va bene Grazie per la risposta Sì Ok Barbie Sì tutte Orecchietta Vabbè Le hai già fatto Ma cosa fai Ce ne abbiamo le Barbie Ti guardate Che cosa Ah sì La bambolina Che metti sui piedini E valla con il carro Ho visto una bambola L'altro giorno Senti per favore Che le abbiamo comprate L'anno scorso Sono ancora lì Dai Non è vero No Non è vero Vabbè Ma ci sta Che non ti metti a giocare Volevamo le tutti i giorni Però un'altra no Ma io non ci sono andata Dove c'erano la casa Come non è indietro Qua secondo me Dove ci sono le LOL Forse dietro ci sono le Barbie Tu sei già arrivata alle LOL Ho preso questo Sì da mo Hai preso il seggiorino Per fare cosa? Per metterci dentro la bambola E poi dove la porti? Al supermercato a fare la spesa? Me lo prometti? Mamma Eh Perché non ci sono i vestiti dentro? Eh E i vestiti ci saranno a parte No Non c'è scritto Guarda là che è legno No Ma i vestiti si trovano Tu? Le trovate? Io mi vedo una cosa Mamma Non ricordo Quello di voi L'uolo questa Perché guarda cosa c'è Va bene Quindi due case delle Barbie Dobbiamo cambiare le camerette qui ragazzi Eh Chissà Non per me è quella quale No Cosa un'altra infatti E poi vi ricordo che noi due case delle Barbie Ne abbiamo già forse anche tre Sono giunta a verne da qualche parte Ma va bene così Babbo Natale Provvederà Se vorrà E se vi comporterete bene Nel prossimo mese Perché Natale tra un mese Oggi ragazzi È il 25 novembre Tra un mese È il 25 dicembre Il giorno di Natale Avete Avete un mese di tempo Per comportarvi benissimo Non fare arrabbiare la mamma la sera Svegliarsi presto la mattina per andare a scuola E fare i compiti Senza farmi arrabbiare E forse forse Babbo Natale Allora a quel punto Vi potrebbe portare la casa delle Barbie Ma in caso contrario Scordatevi la casa delle Barbie Vero Babbo Natale? Ha detto sì Cos'hai trovato? Vane Ah no Ma era più bella quella che avevamo È questa Questa qui Ma io a me piace quella nera Dall'altra parte è nera Vero? Dall'altra parte è nera però Giusto? Perché Bianca non è che mi fa impazzire Magari a te sì A me non tanto Cosa c'è? Cosa? Cos'è? Salute Te l'ho detto che sei un po' calda Fai la brava che domani Dovamo andare nella casa di Babbo Natale Per cortesia Cosa vuoi Gastone? Lo sai che da Gastone Gli esce il muco dal naso Ma tu sei già arrivata Alla letterina Ok Ed è scritto Babbo Natale Babbo Natale ti voglio tanto bene Amore Poi anche voglio scrivere Al pen Non vedo l'ora che è Natale Va bene scrivi amore Poi la leggiamo Anche Vanessina Sta scrivendo la sua letterina E allora è una sorpresa E la leggiamo dopo Tutti insieme Mamma Allora Come si scrive? Con la L Poi c'è il cappellino Amore Tu lo chiami cappellino Sì amore L'apostrofo Adesso si chiama cappellino Nel 2023 Va bene Va bene L'apostrofo Si chiama cappellino Amore Va bene Ognuno lo chiamano come vuole L'importante è che sa che cosa sia Avete completato? Sì Quindi possiamo leggere la letterina? Sì Sì Siete rimasti nel range delle dieci richieste? Eh No Come? No Di meno? No Come di più? Tu? Di meno Bravo Allora Vediamo un po' Vanessa Che cosa chiede A Babbo Natale Nella letterina Caro Babbo Natale Vorrei ricevere come regali Registrattori di cassa Setto accessori Pasticceria Casa dei sogni Che è quella delle barbie L'Holly My Sweet Family Che c'è tipo delle barbie Una famiglia Sì Poi valigetta Premium Art set Art set 83 pezzi Sì Poi Giolino Auto per le bambole Grazie mille Ti va di tanto bene E anche un neppardo peluche Ma piccolo? Sì Un leopardino? Sì Amore Che carino e dolce Che sei Va bene Sicuramente Babbo Natale Ti avrà ascoltata E passiamo invece Ad Anastasia Vediamo un po' Posso vedere la lista? Amore Sei andata oltre Ah no Proprio a pelo eh E poi Io Sì Amore Dopo a pelo Natale Ti voglio tanto bene Non vedo l'ora di Natale I regali che vorrei Però ti devo correggere un attimo Non vedo l'ora che arrivi il Natale Ok A vero A vero Sono il tostapane Furrea Wale Va bene il tostapane amore Ti sa Poi questo L'hai scritto tu eh Walkalos Il walkalos? Che cos'è? E altro Walkalos Buh Lo saprà lui Cuccioli Assortiti Procione Cavallo Dondolo Con suoni Il cavallo Dondolo Ma è per bambini di tre anni Con il cavallo Con il cavallo Vabbè Rainbow Rainbow I Ice studio Rainbow I Color E Creati Creati Bastian Dai Ma cosa stai dicendo? Ma in che lingua Gli è scritta la letterina? Surprise Surprise Le nana surprise Ma le virgole Le tanto usale Surprise Sette Casa di Maribú Accessoriata Accessoriata Certo Non mica potevamo prendere la serie Novi family World Bebè 35 Centimetri Centimetri Carrozzina Sì 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 Dollo Pramo Makeup set Dovevi mettere una virgola La ricetta di metallo Anastasia La prima Mamma mia Anastasia Quanti regali Lo sai che non li riceverai tutti Vero amore? Vabbè tu hai fatto una lista E lui sceglierà Mi riconto Mi riconto Mi riconto Allora Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Oto Nove Dieci Undici Dodici Dodici Secondo me sono anche di più Comunque senza le virgole sono dodici Con le virgole sono ventiquattro Va bene Anastasia E va bene Vanessa Quindi Questo foglietto lo strappiamo adesso Lo tagliamo con una forbice E domani ce lo portiamo dietro Va bene Non so se si potrà dare a Babbo Natale domani Perché so che domani insieme agli elfi Cioè ragazzi ma vi rendete conto? Eh? Niente amore Perché domani insieme agli elfi Se non ho letto male Preparerete un'altra letterina Per Babbo Natale Ok? Per tu Quindi questa Vuoi chiedere a strappo a Vanessa? Anastasia Tu la rompi È facilissimo Guarda Non ci fa Esatto E allora Non ci vedi Ci fatti le gambe? No Domani insieme agli elfi Vediamo un po' che cosa riusciamo a fare Ok? Va bene Vi imbotte Vi auguro un buon fine settimana Ma domani quanto ci divertiremo? Poco Come poco? Tantissimo Tantissimo Voglio fare i regali E gli voglio sedere Tu? Vuoi fare l'elfo? Eh sì Vuoi fare l'elfo? Va bene Va bene Ci vediamo domani con un nuovo video Dove? Alla casa di? Alla casa di Babbo Natale A Biella A Biella Ciao 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 Ciao